la principessa era a tavola con il re e tutti i cortigiani e mangiava di gusto nel suo grazioso piattino d'oro all'improvviso però rimasero interdetti tutti perché dalla scala di marmo che dal pian terreno conduceva alla sala da pranzo proveniva un curioso rumore splash splash le orecchie dei commensali si tesero e il re parlò è come se qualcosa di viscido e di molliccio ballonzolasse faticosamente da un gradino all'altro per venire qui il re fu interrotto da qualcuno che batteva alla porta d'ingresso della sala da pranzo mia bella principessa aprimi tu che sei la figlia più giovane del re chi c'è dietro la porta palesatevi tu sai con chi abbiamo a che fare no padre va a vedere figliola la principessa si alzò da tavola e aprì la porta fu molto sorpresa nel vedere che si trattava del ranocchio allora sbatte bruscamente la porta in faccia alla bestiola e corse a sedersi a tavola piena di paura qualcosa ti ha spaventata bambina mia ma Grazie a tutti